Allora, Federica Di Giacomo che ci fa un saluto per il suo film Liberami al cinema di Dea. Ciao al cinema di Dea, ciao a Patrizia e speriamo che ci siano molte molte altre donne nel cinema italiano, oltre noi, grazie. Via le donne, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.